Taldi per dieci minuti. Microfono, ecco grazie. Grazie Presidente. Io direi che dopo tanti slogan propagandistici è venuto il momento di fare i conti con la realtà. E la realtà, cari amici della maggioranza, è ben diversa da quella che avete prospettato nei vostri slogan e nella campagna elettorale. La realtà è diversa, ci dice una cosa tranquilla, ossia che non siete in grado di risolvere il problema perché questo problema non lo risolvono gli slogan e tantomeno lo risolve questo decreto. Guardate che questo decreto, proprio perché è un decreto legge, è entrato subito in vigore. Siamo qui per la conversione, ma è in vigore da quasi due mesi ed in due mesi non ha prodotto nessun effetto, almeno di quelli che avevate dichiarato nella vostra propaganda. Non ha ridotto gli sbarchi che addirittura sono aumentati, tanto che siete arrivati a dichiarare lo stato di emergenza. Allora, a me sembra che il governo si sia più preoccupato degli slogan, un po' quello di fare la voce grossa, che poi prevalentemente si fanno i muscoli e si fa la voce grossa proprio con le persone più fragili, con le più deboli. Però guardate che non è facendo la voce grossa che si risolvono i problemi. Stiamo tornando un po', ecco, nei tempi della pre-storia i dinosauri avevano imparato a ruggire più forte perché si illudevano che ruggendo più forte gli altri animali avrebbero avuto sempre ragione, avrebbero sempre avuto vittoria. Però guardi, Presidente, che i dinosauri sono proprio quelli che si sono estinti. E oggi, Presidente, credo che debba prevalere al ruggito del dinosauro, debba prevalere l'argomentazione logica. Bisogna pensare di affrontare i problemi con il rigore logico, con ponderazione, avendo anche una visione più ampia rispetto a questa visione così frettolosa che non riesce a offrire soluzioni perché non affronta il problema alle radici. Insomma, diciamo che anche la scelta della decretazione d'urgenza ha messo il Governo nelle condizioni di agire un po' nell'improvvisazione, mettendo giù norme che poi il Governo stesso ha dovuto emendare, correggere. Perché è normale, non si può affrontare un tema di così grande portata nella fretta di dare una risposta elettorale. Manca una visione programmatica, non è una novità l'immigrazione e non sarà una novità l'aumento del flussi migratori che già sappiamo andrà a incrementare nel tempo. E questa improvvisazione sta generando nessun effetto, ma sta danneggiando il sistema normativo. Il nostro sistema normativo, come vedremo più avanti. Allora, ormai tutti hanno capito che la promessa di avere le soluzioni pronte in tasca, quelle soluzioni che sbandieravate in campagna elettorale, in realtà sono nulla di fatto. Sono parole a vento. Ma neppure il ruggito di un dinosauro, semmai saranno un cagnolino che sta bagliando di fronte al silenzio di una pantera. Diciamoci la verità. Vedete, anche questa dichiarazione di emergenza, se manca una visione programmatica, a me somiglia un po' troppo a una dichiarazione di sconfitta, perché non avete offerto nessun tipo di soluzione credibile al problema. Presidente, poi mi lasci fare un'osservazione. Noi, francamente, non è che ci fidiamo molto di affidare la gestione di un'emergenza a una forza di maggioranza che vorrei ricordare, nella scorsa legislatura, non sapeva neanche cosa fosse un'emergenza. Dai banchi dell'opposizione, l'attuale maggioranza ci accusava e accusava il governo Conte di aver inventato un virus, che non esisteva il Covid, che non dovevamo dichiarare lo stato di emergenza. E pensate, lo dicevano in un momento in cui il sistema sanitario nazionale era al collasso, non avevamo i vaccini, non avevamo le mascherine, dovevamo difenderci. In quel momento, qual era la soluzione offerta da chi oggi è nella maggioranza. Non fare nulla, dimentichiamocelo. Immaginate in che situazione ci saremmo trovati oggi se non fosse stato dichiarato lo stato di emergenza. Ora, anche la scelta della decretazione d'urgenza, questa cosa la contesto sempre. Per carità, non se ne può abusare. Si può utilizzare una scorciatoia legislativa, ma su un tema così delicato, su cui l'opinione pubblica è divisa. Vogliamo darci il tempo per una maggiore ponderazione? Vogliamo consentire anche ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento di poterlo emendare se hanno qualche idea importante da mettere in campo? Vedete, al di là di questo provvedimento, quello che mi preoccupa è l'insieme delle politiche migratorie che la maggioranza vuole mettere in campo. Perché non servono a nulla. si fa un intervento sull'NG, ci si preoccupa che si possa fare un doppio salvataggio in mare. Che sarà mai? Si fa un decreto flussi, ci si rende conto che poi tutto sommato alle imprese servono i migranti, quindi si fa un decreto flussi e si consente di ingresso di 80 mila, ma regolari. E non si fa nulla per la cooperazione internazionale, non si programma nulla per aiutare queste popolazioni a non dover scappare dalle proprie terre. Allora, se si vuole fare cooperazione internazionale, bisogna cercare di creare le condizioni minime per la sopravvivenza. Qui c'è un problema, mancano gli ospedali, mancano le scuole, la gente fugge anche per ragioni di salute, fugge dalle guerre. Dobbiamo pianificare interventi a lungo termine, non soltanto gestire l'emergenza. E qui fino ad ora io non ho sentito parole da parte del Governo, parole sensate, parole che possano darci una speranza. Ma vorrei entrare nel merito del provvedimento, perché qui davvero, se non ha avuto effetti materiali o non ha avuto gli effetti che sperava di avere il Governo, effetti devastanti sul sistema giudiziario ne ha avuti anche troppi. Partiamo da un elemento che ha emerso, l'ha detto prima una collega della maggioranza, c'è stato l'inasprimento delle pene. Benissimo. Ma voi sapete che abbiamo un ordinamento giuridico che è nato sulla base di un equilibrio sanzonatorio. A fronte di un fatto più grave dell'altro, il fatto più grave deve avere una sanzione maggiore. È ovvio. Qui si inserisce, colleghi, e fate attenzione a questo, ve lo dico da giurista, non da politico, non si può prevedere la sanzione della reclusione con un massimo editale di 30 anni per un reato colposo. Cosa facciamo per i reati volontari? Dovete considerare che non potete nel sistema normativo stravolgere un sistema che tiene distinto l'elemento intenzionale. Un conto è il gesto volontario, si chiama dolo, un conto è la colpa, che è negligenza, imprudenza, impedizia, e un conto è la prete d'intenzione. Non possiamo stravolgere quell'equilibrio che esisteva da quando fu creato addirittura il codice Rocco, così facendo si fa soltanto la proce grossa che non è quella del dinosauro ma quella di un cagnolino. Altra cosa, volete inaspirare le pene? Benissimo, è legittimo farlo, ma siamo in un ordinamento giurico in cui si rispetta anche la Costituzione. Mi sono preoccupato quando ho visto ad esempio le sanzioni, che per carità potete metterle, ma voi sapete che le sanzioni devono avere una funzione retributiva, quindi la punizione del colpevole, ma anche quella rieducativa. Non lo dico io, lo dice la Costituzione. Lo dice la Costituzione. Ora, mi dite voi che senso ha prevedere per chi non ha rispettato le regole del centro di accoglienza o ha creato un danneggiamento, non so, ha rotto un vetro, andare a togliere il sussidio economico. Quindi voi mi dite questa è una sanzione, sì, ma cosa ha di rieducativo? Voi state dicendo a questa persona tu per sei mesi, fino a sei mesi si può dare questa sanzione, starai senza una lira, quindi procuratele tu, poi non sappiamo come se le va a procurare e poi mi parlate di sicurezza. Insomma, non credo che sia frutto della ragione una scelta del genere. Per me in questo caso la ragione non è stata per niente interpellata. Grazie. Altro elemento di stravolgimento del senso che dà il nostro ordinamento giudiziario. Si fa il commissariamento dei centri per migranti. Bene, perché dobbiamo tutelare i crediti dello Stato. Giusto? Fate benissimo. D'accordo? Volete tutelarli non da crediti fiscali, attenzione, li tutelate da crediti per inadempimenti contrattuali, quindi che non hanno nessun diritto di prelazione. E cosa fate? Accantonate gli utili dell'impresa perché così lo Stato può fare un po' l'assopiglia tutto. Ma vi state dimenticando che esistono altri crediti privilegiati, i crediti dei lavoratori che non sono stati pagati, sono tutelati dal codice civile. Non potete stravolgere il nostro ordinamento e le priorità che sono dati a crediti più importanti di quelli dello Stato di gente che lavora e che non è stata pagata. poi spiegatemi anche questa io posso capire la distinzione tra migranti irregolari e migranti irregolari. Devo concludere? Allora guardi Presidente salto alcune cose di dettaglio perché altrimenti non riesco a concludere però vorrei fare allora un richiamo al discorso che questo provvedimento bisogna valutarne gli effetti gli effetti vanno valutati perché questo provvedimento ostacola l'integrazione crea tensioni sociali altro che sicurezza se noi mettiamo queste persone in un senso di frustrazione nell'emarginazione ma è chiaro che prima o poi esplode la violenza voi non state dando sicurezza all'Italia la state mettendo in una situazione ancora più pericolosa di quella che abbiamo rendetevene conto e io credo e concludo Presidente e concludo concludo io credo che di fronte a un provvedimento che non tiene conto dell'umanità che non tiene conto dei nostri valori deve essere il nostro mondo interno a ribellarsi e a farci orrore a pensare che uno Stato possa voltare le spalle ai più deboli quando c'è bisogno di riconoscere i loro diritti umani grazie è scritto è scritto è scritto